Ma secondo te è una delle priorità in Regione? In Regione assolutamente no, non lo è probabilmente nemmeno a livello nazionale se non fosse perché nei prossimi giorni a partire da domani si comincia a votare un decreto che si chiama svuota carceri e che sull'argomento ci chiedeva di prendere le posizioni precise. Non è una priorità, però tutto ciò che è politico che passa dal Parlamento è una priorità secondo me.